Diamo la buonasera a Giuseppe Lombardo Junior, ciao Giuseppe! Ciao, buonasera a tutti! Superbo Capar con il 5 per il Gran Premio Ponte Vecchio, come ha lavorato il cavallo? Il cavallo in lavoro ha dato segni di ripresa e sinceramente noi siamo abbastanza soddisfatti come ha lavorato e c'è solo da vedere che in pista praticamente ritorna ad essere quel superbo che abbiamo lasciato un po' di mesi porzono. Ce l'avevi annunciato dopo il Gran Premio Locatelli, ci avevi detto che avresti usato degli accorgimenti particolari, hai cambiato nelle impostazioni qualcosa nella ferratura? Raccontaci come lo presenterai domenica. No, abbiamo cambiato qualcosa a livello di investizione e sinceramente dobbiamo verificarlo in corso, il lavoro ha risposto bene, è un assetto diverso, insomma con una briga diversa e ripeto, il cavallo ci ha soddisfatto in pieno e adesso bisogna vedere la corsa, la pista che ci dà la conferma di aver lavorato bene. Quali sono gli avversari? Gli avversari, la corsa è tanta e 2000 metri quindi è una corsa un po' lunga per tutti diciamo così, ci sono Ranea Leste, anche il Fotoguel all'interno quindi sarà una partenza tutta da scoprire, i cavalli secondo me si possono equivalere, stando al miglior superbo che ormai Leste da tanto tempo, secondo me ci avrebbe buone chance, ecco tutto qua. Firmeresti per un piazzamento prima della corsa Giuseppe? Ma sai, è un piazzamento, direi che non firmerei però mi potrei accontentare di un piazzamento. hai reso l'idea. Giuseppe io ti ringrazio e ci sentiamo dopo la corsa. Benissimo, grazie.